Grazie a tutti. Purtroppo non abbiamo potuto riempire come avremmo voluto l'aula per una questione di sicurezza perché ci hanno detto che non si poteva riempire a capienza piena. Abbiamo la scuola duchessa di Galliera che attraverso il liceo della comunicazione ha creato questa serie di conferenze, abbiamo il liceo linguistico dell'ETA e abbiamo il televenta messo nascolo. Oggi nella Olamagna del duchessa di Galliera la conferenza del professor Bassetti, una conferenza sentita anche dal lato umano di quella che è stata la pandemia e molto partecipata dai ragazzi. Sicuramente il professor Bassetti ha dimostrato non solo la sua competenza ma proprio la presa veramente diretta nei confronti dei ragazzi. I ragazzi sono stati meravigliosi anche loro con le loro domande veramente molto pertinenti e hanno fatto in modo che si potesse aprire una riflessione direi significativa e di alto livello. Quindi direi che questa conferenza come prima conferenza dopo un periodo di chiusura perché non ce l'ha più stato permesso a causa di Omicron è andata veramente alla grande per dirla come i giovani e è stato tutto veramente perfetto.